Giornata all'insegna della musica e della danza al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andrea. Una lunga maratona di appuntamenti che comincia già da questo pomeriggio a partire dalle 17 alla casa di accoglienza Santa Maria Goretti con Borg di Andrea Cramarossa, tra i grandi protagonisti di questa 27esima edizione con la mostra Cosmogonia in corpo ospitata al Museo di Cesano e con un laboratorio di arte performativa. L'attore e regista propone il suo nuovo lavoro, un cortometraggio che si immerge nel realismo magico del grande scrittore, poeta e filosofo argentino Georges Louis Borg. Spazio alla danza invece all'Officina San Domenico che ospita la piece di danza contemporanea Petrushka della Compagnia Cornelia. Un appuntamento legato al progetto di residenza artistica Abitare 23, presente oggi nel programma della Kermesse anche con la performance di danza dal titolo L'ultimo ad averlo visto vivo in scena al Museo di Cesano. Tra gli eventi extra alle 19.30 a pane pomodoro l'incontro con il sociologo e scrittore Leonardo Palmisano che presenta il suo nuovo libro Il tradimento e delitto, un giallo ambientato in terra pugliese. Alla stessa ora all'Officina San Domenico conferenza stampa con il giovane andriese Gianandrea Inchingolo, protagonista domani con un laboratorio ed un open lab dedicato al mondo dei giochi che diventano strumenti educativi per lo sviluppo di conoscenze e competenze. Tra gli eventi più attesi della serata il concerto esperimento di Mezzocielo 3.0 in programma alle 21.15 al centro provinciale per l'istruzione degli adulti nel quartiere di San Valentino. Il pianista e concertista Matteo Bevilacqua si esibisce al pianoforte mentre un elettroencefalogramma registra in tempo reale l'attività elettrica del suo cervello traducendola in arte visiva. Viene svelato così ciò che accade nella mente del musicista. Cercheremo di dare un senso ad una domanda che mi è stata rivolta e che mi viene rivolta spesso dopo i concerti, cioè a cosa pensi mentre suoni? È una domanda a cui io non posso rispondere. Questo spettacolo è il tentativo di trascrivere qualcosa che non è esprimibile a parole, ovvero le emozioni che si prova quando si è su un palcoscenico e nel mio caso mentre si interpreta un brano musicale.